Inizia la giornata con la preghiera. Non ti arrestare nella ricerca della verità, nell'acquisto del sommo bene. Sii docile agli impulsi della grazia, assecondando le sue ispirazioni e le sue attrattive. Non ti arrossire di Cristo e della sua dottrina. Quando l'anima geme e teme di offendere Dio, non l'offende ed è lontanissima dal far peccato. L'essere tentato è segno che l'anima è ben accetta al Signore. Non vi abbandonate mai a voi stessi. Ogni fiducia ponetela in Dio solo. Sento sempre più il grande bisogno di abbandonarmi con più fiducia alla Divina Misericordia e riporre in Dio solo l'unica mia speranza. Grazie per la visione!